Dunque cercherò con tutto il sforzo della mia vita, anche cercando, nella scusa di non perdere queste chiavi, faccio una promessa di tornare e di fare delle cose molto divertente, così possiamo divertirci seriamente ancora di più con Firenze, con la gente di Firenze, con questi luoghi che hanno una vita che è molto più lunga che la nostra e che questa storia, anche per la mia piccola collaborazione con questo posto magico in questa città potrebbe continuare. Così non dimentico mai questi chiavi sull'autobusso. Grazie.